Amici ed amiche, sono il dottor Vincenzo D'Amico e vi do il nostro ben trovato nella rubrica di odontoiatria. L'argomento di oggi sarà la metodica che ha segnato una svolta nell'odontoiatria moderna, l'implantologia. Se prima per rimpiazzare un elemento mancante in maniera fissa era necessario protesizzare con un ponte, e cioè limare i denti adiacenti all'elemento perso ed inserire tre capsule, dagli anni Ottanta in poi la metodica più diffusa è diventata sicuramente l'implantologia. Per impianto dentale intendiamo una radice artificiale, una vite di titanio, che viene inserita nell'osso e che ci fungerà da supporto per un moncone, una struttura che verrà avvitata all'interno dell'impianto e sul quale verrà cementata una capsula. Il risparmio biologico è fondamentale, i denti adiacenti non vengono toccati, non c'è più la problematica di legare la sorte di un ponte agli elementi che compongono i pilastri. Succede ancora oggi che se un ponte ha mobilità, se viene perso un pilastro, tutto il lavoro è purtroppo da cestinare. Si dà ad ogni dente la sua autonomia e ciò è fondamentale in una generazione che sta sicuramente invecchiando e in un paese in cui l'aspettativa di vita si sta spostando verso margini più alti. Dal punto di vista commerciale esistono diversi impianti a diversi costi con superfici lavorate in maniera più disparata. Tuttavia scientificamente, quindi con studi scientifici alla mano, sappiamo che la durata nel tempo non cambia molto dall'impianto meno costoso rispetto all'impianto più blasonato. Quello che cambia è la durata della componentistica interna, quindi le viti di giunzione, i monconi, la giunzione moncone impianto, cioè la parte interna che rimane nell'osso e la parte esterna che sta a contatto con il cavorale. Se questa giunzione non è ottimale si può creare un'infiltrazione, di conseguenza una contaminazione batterica e una possibile per implantite. Dal punto di vista microscopico, il titanio è stato considerato il materiale d'eccellenza per la sua notevole biocompatibilità. La nostra procedura è molto semplice. Foriamo l'osso, quindi creiamo una microfrattura all'interno dell'osso e vi inseriamo questa vite. L'organismo nella sua forma di guarigione non capirà che il titanio è un materiale esterno e lo andrà a ricoprire. È necessario un tempo fisiologico per la guarigione dell'impianto, da due a sei mesi, a seconda della procedura operatoria attuata. Perché? Perché l'impianto ha bisogno della formazione di tessuto osseo sulle proprie lame. Si può tentare un carico immediato, ma è sicuramente più rischioso di un carico ritardato, quando cioè l'impianto viene fatto e viene lasciato sommerso a riposo. È lo stesso concetto che si applica in ortopedia con la piastra al femore, quindi in teoria il paziente può già camminare dopo l'intervento, però in pratica se non lo fa potenzialmente è meglio. Anche l'impianto post-estrattivo, quello cioè che viene inserito dopo aver tolto subito un dente, non è quasi mai raccomandabile. Perché? Perché la posizione del dente all'interno dell'osso non è la stessa dell'impianto. Il dente ha una corticale, quindi l'osso esterno molto sottile. L'impianto non la tollera. Perché ci potrebbe essere un residuo di infezione che poi andrà ad inficiare la buona riuscita dell'impianto. Se analizziamo questo caso, la nostra paziente, una ragazza di giovane età e con una problematica su un dente devitalizzato da tempo in una zona estetica, le zone estetiche arrivano fino ai premolari, quelle che cioè riusciamo a scoprire con il sorriso, ecco in questo caso abbiamo optato per un post-estrattivo. Nel post-estrattivo che cosa si fa? Si rimuove il dente che in questo caso aveva una frattura e si inserisce un impianto. Questo è lo stesso alveolo, anche se è stato preparato con un impianto a spira larga che ci permette di avere una maggiore ritenzione. Su questo impianto è stato costruito direttamente un provvisorio che ha evitato alla paziente di avere il classico buco dopo l'estrazione. In questi casi la possibilità di una riabilitazione estetica prima che funzionale c'è ed è ottimale, ma nel momento in cui il tessuto osseo non permette ciò è sempre necessario dare tempo al tempo. Una guarigione è migliore tanto quanto ne allunghiamo i tempi. Quando a livello intraoperatorio il tessuto osseo non è più sufficiente perché magari il riassorbimento c'è stato ed è stato molto aggressivo nel corso degli anni, possiamo ricorrere all'utilizzo di biomateriali. I biomateriali possono essere osso sintetico di derivazione animale deproteinizzato, osso di derivazione umana oppure idrossiapatite, anche se sappiamo che non si avrà mai una sostituzione totale del biomateriale con l'osso autologo, quindi l'osso prodotto dal nostro corpo. L'unica metodica che ci permette di avere ciò è l'innesto osseo diretto, quindi prelevare osso in una zona della nostra mandibola, in alcuni casi dalla calvaria o in altri casi dalla zona della cresta eliaca ed inserirlo in bocca. Tutto ciò però richiede degli interventi più invasivi e ha un senso solo in cui il paziente sia totalmente collaborativo. Mi spiego meglio. Gli impianti non vengono mai raccomandati in pazienti con parodontiti, la vecchia piorrea, perché un impianto ha la durata di un dente, cioè se una persona non ha cura dei propri denti non l'avrà neanche degli impianti. Non vengono raccomandati in pazienti fumatori, poiché i pazienti fumatori hanno la nicotina che crea una vasocostrizione. La vasocostrizione è la nemica di ogni forma di guarigione e di conseguenza anche dell'integrazione degli impianti. Non vengono raccomandati in pazienti con diabete scompensato e con gravi forme di osteoporosi. Contrariamente a quanto si pensi, l'età non è una discriminante. Infatti la diagnosi e la percentuale di successi che si hanno in una persona di 30 anni sono gli stessi che si hanno in una persona di 80 anni, purché si adegui alle norme igieniche raccomandate. La stabilità primaria, con questo termine che cosa intendiamo? Intendiamo l'incapacità dell'impianto di muoversi appena inserito. La stabilità primaria è fondamentale ed è la nostra discriminante. Un impianto dove non c'è stabilità primaria difficilmente si integrerà. Un impianto con una stabilità primaria avrà l'89-95% di possibilità di integrazione. Diciamo che la percentuale è molto alta e, se dobbiamo essere onesti, anche in caso di insuccesso in prima seduta è molto raro che nella seconda seduta l'insuccesso si ripeta. Quindi credo di poter affermare che l'implantologia è ad oggi la metodica più sicura e con il maggior risparmio biologico ed anche economico per rimpiazzare un elemento perso, purché venga seguita una manutenzione costante, quindi controlli periodici e pulizie periodiche, e purché il paziente non rientri nei casi sconsigliati dai protocolli. Con questa carrellata introduttiva sull'implantologia, spero di essere stato come al solito chiaro e conciso, vi mando un caro saluto dal dottor Vincenzo Nemico, è tutto, appuntamento alla prossima puntata.